10.000 mi piace e commentate qui sotto con un giocatore che inizia con la lettera T Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Oggi ragazzi siamo qui, insieme a tutti gli elizzi Ciao ragazzi Quasi tutti, tra l'herry, ogni volta ne manca uno Godo che man... Oggi ragazzi siamo qui per fare le nuove cose città con i calciatori Anzi in realtà in ambito calcio in generale Quindi si parlerà di qualsiasi cosa inerente al calcio Qui ragazzi abbiamo tutte le lettere, andremo a bucare il foglio Ovviamente da bendati, comunque non vedendo E vedremo la lettera che verrà fuori Ci saranno due manchi con varie categorie di gioco Quindi ragazzi beh, non è la prima volta che lo facciamo No, infatti siamo esperti Ormai siamo esperti, esattamente Partiamo da sinistra, destro, destra Per la lettera, Andrea parti tu Vabbè per loro devi stare su sinistra Esatto, non guardare Ah non guardare E fuori al foglio Beh fuori al tavola questa Vai, buca Ok, sei andato sulla I Mamma mia In grafica ragazzi state vedendo le categorie appunto di questa manche Quindi ragazzi siete pronti? 3, 2, 1, vai Non copiate eh Eh va, c'è già un marico di più Maronna me Non so se questo è ritirato il gioco ancora Porca miseria Ma poi c'è anche la liga qua Infatti Ma anche i club Anche i miei del mondo 20 secondi Ma no perché è così difficile adesso? Finito Top raga Ho finito raga Finito tempo Vabbè dai 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 si gioca ancora io ho messo healer, gioca ancora? healer giocava, io stavo per scrivere gli aramendi ma mi sono fermato perchè l'ho scritto in bbp bravo, ok quindi 5 a testa anche qua io no, io 10, tu niente, 10, ritirati ho scritto healer perchè non sapevo se era ritirato quindi me lo cancello ok, iezzo, mizaki, iezzo sei ritirato? si, no, gioca ancora in cina se non sbaglio, tu che hai scritto? gli aramendi, che sei ritirati? i ritirati? no, 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 per di capire via, quindi ritirati niente, ok, 10, quindi 10 iezzo, liga raga, allora io ho messo un giocatore si chiama iziquierdo, iziquierdo, quello là, la sinistra non mi ricordo dove gioca, è colombiano, non è, anche mi ricordo che erano in spagna, però adesso check, andiamo al VAR ragazzi subito, Blackton, questo gioca in premier bravo, ah, quindi 0, vabbè, mister, io isco, isco, cavolo, io ho una signora mendy, quindi che abbiamo messo in tre comunque, 0, 1, 0, 0, 4, 5, 0, squadra, mi ha messo Imola, ok, esisterà Imola, vicino anche a Bologna, vai, secondo me è Imolesi, ah, no, è Imolesi, vale, 5 punti, 0, 100, io non l'ho messo, anche io ve lo metto in imperial, però pensavo solo, tipo, con le leghe forti, io ho messo Ischia, ischia 0 io ho messo in peria perchè pensavo fosse neanche l'Inter l'hai messo no e mi sono io la metti in inter in realtà però la metto tutto è bravo vabbè alla fine però ho preso 10 con l'Inter non l'ho messo perchè pensavo anche nel mondo secondo me l'ho messo io qua io non l'ho messo io non l'ho messo perchè ho messo in zaki in zaki ho messo in zaki è vero ho detto ma no c'è in zaki chi è l'altro con la iu non mi veniva bravo stai vabbè dai prima mancia andata vabbè 15 punti raga bello va bene va bene dai Mr.Tocca3 allora mia mano per favore è qua è qua madonna niente rifai porca miseria M di Milano siete pronti ok 3 2 1 via vai con la M già ci sono raga già ritirati come si chiama quella squadra porca miseria finito vabbè ma c'è il tempo vai 13 secondi ragazzi avete difensione con la M pensate 8 vabbè non dico niente dai che vi sconcentro no non ho messo 2 3 2 1 stop ho scritto ho scritto penne in aria allora vai andrea difensori milenkovich io ho scritto maximovic miranda musacchio mustafi bravi ragazzi ci andranno visti migliori anna montari milenkovich maxim montari non sei ritirato vabbè non fa niente vabbè ci sta dai vabbè 15 15 non è tutta di niente maxi no il centrocampista maxi ok ritirati maldini marchisio ma non si 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 tre giorni fa liga vabbè messo il più scontato messi muñahin bello muñahin si miranda gioca in cina c'è calvar subito miranda l'ho messo madre difensori c'è il fratello mi pare miranda guarda un attimo vabbè ma lui intende miranda quello dell'inter no 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 in cina gioca yang su suning squadre il matera che ho messo il miran mantoba mortwell come si chiama il monza sto pensando la squadra di berlusconi ho detto ma quale cavolo è già quindi noi 5 e buttali via il mondo lo mette le martini ma già l'ho messo in io non so se è capabile si 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 ma per capire il mondo io ho messo materazzi io ho messo maratuno si ok muller è stato cammino del mondo eh con la germania con la germania vai e 10 con materazzi buco io ragazzi per la lettera e tra ads vabbè la spia più D più D dai D D di domodossola ok 3 2 1 via non è la partita il tempo ok io non so se esiste ok non è facissimo questo eh con la D oddio liga campioni del mondo madonna mia che cacchio tempo scaduto nooo non ho scritto 2 difensori d'ambrosio d'ambrosio si io ho scritto duarte quello del milano nuovo io danilo dodò centrocampisti dembélé del tottenham bravo perché io pensavo all'attaccante con il barcelone ho detto dembélé non va bene ok javarà javarà io non ho messo niente mi ha messo quello del milano vecchio d'ambrosio 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 donatoni donatoni ok non ho scritto niente d'ambrosio 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 io ho messo 2x ok io ho scritto dida però non sapendo se ha vinto io la voglio scrivere ma secondo me non so se ha mai vinto il mondiale eh però non so se con dida si può essere è stato campione del mondo nel 2002 grande dida 10 punti che ha messo dei rossi dei rossi buono quando ancora era piccolino ha vinto pensa te vai mirko cerca la lettera non mi bucar la mano per favore porca miseria un cecchino td torino td torino anche di tatero e anche di tatino esattamente 3 2 1 vai porca miseria questi come si chiama per la squadra ok non ha minimamente liga oddio che fare raga allora difensori otomovic tacchinardi ho messo yes troste con troste con centrocampisti tolissù ti prego che nessuno ha messo tolissù hai messo di su tonali io ho messo torreira ma stavo bene il centrocampista è male però si può un po' ricadere il centrocampista ah il centrocampista ci sta cazzo ok quindi 10 tutti ritirati nessuno totti cazzo io ho messo tevez però non so se si è ritirato check alvar subito non lo so se si è ritirato secondo me neanche però l'ho messo attaccante del bocca cavolo gioca il bocca infatti non gioca il bocca ancora no non gioca il titolare quindi niente allora io della liga ho messo tomas ci sarà qualcuno che si era no ce n'è uno si era della tettico Madrid però mi sa che è andato via l'ho sentito ultimamente allora l'ho messo tomas partey ok allora tomas penso sia il nome però per me va bene per me va bene dai ci sta ok io ho messo tremurinas che non so se gioca in liga c'è seguito ex calciatore bene ex ha giocato in liga ci ha provato dai eh avvio ok io niente ho scritto Tiago ma Tiago vai a Monaco io non ho messo niente ok io ho messo aiubi ci va fino alla fine Taranto Taranto ci sta ci sta senza me dire io Totti non ho messo io ho messo Ternano io ho messo Torino a me non mi è venuta in me grande Totti si ho voto campione del mondo niente campione del mondo Treseghè Francesco Totti treseghè anche io no godo ma Treseghè ha vinto il mondiale? con la Francia perché mi ricordavo quella persa con l'Italia ha vinto l'europea Treseghè forse non ha vinto 50 cechiamo Treseghè per sicurezza campione del mondo nel 98 bravi ragazzi c'era dati lettera aspetta che prendo il fuoco l'ultima volta ho bucato la mano esatto e oh ok vai buca lì ok v di verona ci siete tre di uno via vai bello dai che questo non è semplicissimo quella via vacca miseria ti giuro che non mi viene ma che cavolo finito ma vati ho finito a 10 secondi ho finito non ci posso dire sono fiero di me stesso prof mi metta a 9 finito Totti tempo scaduto eh che cavolo vai difensori il miglior al mondo ok vandic anche io l'ho messo anche io vandic porca trota versalico varan l'ho cancellato versalico porca miseria via varan pensavo lo mettavano sicuro ma centriapisti valdifiori veloso anch'io veloce 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 ritirati ritirati nessuno van der sarre van der sarre vieri vieri io ho messo a viviano ma quello lì l'io non gioca sport in lisbon ma non il quartiere quello lì cioè il ligamo vecchio l'io non gioca guarda come ci stavo guarda che faccia giuro esiste vai zero io ho veron liga santander ah no ma hai detto che l'io no pensavo gioassi a liga santander no se non sbaglio sport in lisbon si e mi è venuto dei flash scusa ma vieni non è tornato in italia forse aveva giocava alla spalla alla spalla forse giocavo alla spalla spalla sta avverisce svincolata addirittura ma vera esatto io ho messo presalico liga io varan varon io niente ok venezia valencia licenza verona no ragazzi ragazzi pensiamo uguale campione del mondo ho messo varan io varan campione del mondo giusto io non ho messo niente ieri 150 195 bello 155 165 110 quindi primo 195 hai fatto 195 mister con 195 vabbè se chiudere adesso vediamo la seconda manoscia ok ragazzi secondo giro nuove categorie come state vedendo adesso in grafica ripartiamo ovviamente con le lettere andrea senza farmi la mano come sempre vado bene qua vai ok presa e di empoli ragazzi questo è difficile 3 2 1 e via ok e stavolta abbiamo robine cose diverse eh oddio caccia assurdo ma qui c'è un vuoto assurdo chi gioca in porta? gioca e e e ma anche della premia non so se attaccato vabbè va bene zio greggio madonna il tempo scaduto ragazzi io tre cosa ho scritto che è difficile qua io mi piace solo per questo raga vediamo ederson ederson buono no non l'ho messo anche io non l'ho messo neanche io ok quindi 5 attaccanti Eder e il Sharawi non mi ricordo se è un attaccante leonussi vogliamo scrivere leonussi però c'è Calvari se non sbagli sono due gemelli vabbè ovviamente io penso all'attaccante ovviamente all'attaccante alla sinistra vabbè alla sinistra vabbè alla sinistra ok bravo allenatori niente 0 commentate voi con l'allenatore con la E vediamo chi c'è premier niente 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 ericson ericson è vero però votati qualcuno ha scritto qualcosa estonia estonia anch'io nooo l'unica cosa che ho scritto Etiopia ok Ecuador dite vincitare uccello nessuno 0 ragazzi e tu nooo ma che questi due dai raga l'ho scritto prima di sicuro no dai prima l'ho scritto dici vabbè vabbè dici non facciamo a check dei conti di tanti no no zero vabbè ho fatto 5 a 10 meno di tutti però la E è comunque la tosta eh vai mister oh trovaci di meglio e rifai ok oh ancora peggio ragazzi 3 2 1 via con la O ma anche i portieri vincitori uccello nazionali con la macchista nazionali con la O tre cose che poi hai finito c'è ma hai capito chi ha finito mi stava finito allora io sono sicuro che ho sbagliato odriozola e terzino 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 anche teo grande 5 5 ok attaccanti olic ok ok 0 uno svaldo ok allenatori niente orrico nell'inter allenato ok ci fidiamo no no ci fidiamo niente e poi ci fidiamo adesso e beh dai vabbè adesso tati due studiati è andato specifico io rinascerei te cazzo eh ti fido Premier League o scia anche io porca droga otamendi otamendi io ho scritto orm però non mi ricordo se era un giocatore chi? ci fidiamo ma chi è orm guarda che faccia 0 vai come l'ha scritto poi orm esiste orm non poi esiste orm vai nazionale vabbè qua fatti olanda è 0 raga che fate pure io ho messo olanda 0 scusa tcl oddo 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 odd 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 ordinati vinto Oh odd 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 E' meglio R, dai, via via Ok, meglio un cavolo Forca miseria, i giocatori della Premier Mamma mia, è veramente assurdo Poi c'è un voto esagerato Oppure io raga, sarà che c'è il tempo che ci pressa Quanta una sette seconde, Premier League c'è No, come facciamo a rispondere? Ma io ho fatto uno, ho fatto due Ma io ho fatto uno, faccio Io ho uno solo, non ce lo portieri non fa Che? Ma che? Ma ci ho proprio un voto in mente Vai, portieri, portieri, niente Romero Buono Romero Attaccanti Ma io neanche quello ho messo Revic, buono Io ho messo Rodrigo Ok, tutti buoni, allenatori Io ho fatto il più niente, non mi dire il più niente Gigi Radice è allenato il Torino, Andrea Ah, Gigi Radice Ok, faccio un check No, 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 un check su di me, è Ronaldo il fenomeno Ho messo Ranieri comunque Stavamo c'erano i dirigenti se non sbaglio No No, allenatori scusate, avete fatto voi Io ho messo Ranieri Ranieri, buono Premier niente Rashford Rami gioca in Premier, no? C'è un fratello che gioca in Premier Scusa Ma tu te ne hai tutto parente Ma tu hai cogi cogi vai E tu scrivi che ero di BPL Dai Io ho messo Rodriguez Ci sta Rodriguez che gioca in Premier No, vabbè, allora guarda No, li riconoscerlo Io lo boccio casuale Dai, non uscerlo Dai, infatti Nazionale Nindale Romania Anche Romania No, meglio CL Ramos Ramos, madonna Io ho messo Rize Rize? L'ha vinto perché l'avrei segnato Ok, ok, anche Rize va bene Bello sta matcha Ho preso 0 punto Tu è 0 Guarda Ramanì a 0 Ronaldo a 0 Anche io a 0 Io te le dava con un 5 davanti Ok E come? E' 50 Fatto Pazzesco Vabbè, già con il campionato a parte Vai Mirko La città lettera E' la nostra Juventus E' venuta fuori la G Eh vabbè dai Che vuoi Vabbè anche la G è tosta Vai ragazzi via Ok, bello Questa deve gioca già Va bene il gallo Ma non mi mette Porca miseria Non mi ne mette niente No, anche questo è difficile comunque Facca miseria Finito ragazzi Fate fatto venerlo Portieri Gollini Gollini Ok Io non l'ho messo perché tanto sapevo che lo scrivono tutti Giuro Allora, per sicurezza dai Come l'Inter io prima ho proprio sdici punti Attaccanti Girardino Noo Gomez Anche io Girardino Dai io però che cazzo Zero quindi No no niente Anche io che ha messo Gomet Io Eh 10 Allenatori Gattuso Noo anch'io ho messo Gattuso Io ho messo Giggs No non è Lampard allenatore Ci chiamo Gerard allenatore Lampard Lampard sicuro Eh è venuto fuori subito il mio risultato Un B5 Si allenatore perfetto DPL Io ho messo Gago Giocava 20 anni fa Gago Quello del Real Madrid Poi prende Gago dati Non c'è uno Cancella dai Zero prendi Zero Nazionale Zero perché ha messo tutti i Galles sicuro No ho messo Grecia Gambia Giappone Ma veramente Io Galles Ecco 10 Vincitori CL Io ho messo Gago Io Giggs Gattuso 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 la vinta da sempre Ah ha vinto Ah ok Gullit 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 Dai raga questo Gullit Giggs la vinta si Facciamo il check non lo so Giggs la vinta stasera Giggs con Manchester United Ok va bene dai Ultimo turno ragazzi eh Vai Tati Buca Senza prendimi le mani Ok B Di Bologna Quindi dov'è squadra Via ragazzi Via Non so se è la vinta però Porca miseria Allenatori Ma anche la BPL O Porca miseria Allo quale non mi hanno messo tutti sicuro voltiere Beriscia Beriscia non l'ho messo Si l'ho messo Bufonna L'ho messo quella la della Fiorentina vecchia Balaz Bufonna Bufonna No No andati Attaccanti Allora Babacar Bogdani Blacikovski No Esterno 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 Ok Allenatori Ballardini Buono Guardate conferma Boban Ha fatto allenatore Check Mi pare che ha fatto parte dello staff del Milan Però l'allenatore no Ora è in Milan No vabbè C'è stato Si No Varese Ballack allenato Ballack Ballack Check Check Perché secondo me Premier League Baba No anche io Chelsea Ah no il terzino Baba 3 Zeno Ok Nazionale Bielorussia 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 Quindi ragazzi questo video finisce qui Mi raccomando 10.000 mi piace E vi porteremo un altro quiz sul calcio Se siete nuovi iscrivetevi al canale Grazie a visione, grazie di tutto E noi come sempre ci vediamo al prossimo video